Un saluto dal Tg della mobilità, sospesi anche per questa settimana i lavori notturni per il rifacimento del manto stradale di via Ardiatina tra il Divino Amore e via Fioranello, nessuna deviazione prevista anche per la linea 702. Sulla ferrovia Roma Nord per lavori di manutenzione i treni in direzione Flaminio non effettuano fermata la stazione acqua acetosa. In alternativa si può scendere a Euclide e prendere il treno in direzione Viterbo per una fermata. E per permettere l'intervento di sostituzione dei pali di sostegno della rete elettrica dei tram nel tratto tra via Bresadola e piazza dei Gerani, sino a domani la linea 19 viaggerà con bus lungo tutto il percorso tra piazza dei Gerani e piazza Risorgimento, in entrambe le direzioni. La linea 5 invece è momentaneamente accorpata alla 14 con la linea tram 514 che viaggia tra Viale e Palmiro Togliatti e la stazione Termini, sia in andata che al ritorno. E' tutto, appuntamento alla prossima edizione.